Potere ai presidi, sintesi del servizio di terra, il programma di Toni Capuozzo su Rete4. Interventi su uno dei punti più controvesti della buona scuola di Renzi, il ruolo del dirigente scolastico, una sorta di capoazienda che dovrebbe assumere direttamente gli insegnanti e scegliere chi premiare. Un potere enorme e una grande responsabilità. Nel servizio di Lorena Bari sentiamo gli interventi di insegnanti, dirigenti, scolastici, professori universitari ed Irrino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gida degli Insegnanti. Grazie a tutti.